Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina a Meduna di Livenza. Un dipendente investito da un muletto ha subito uno schiacciamento ed è stato ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è alle 8 e 45. Per cause ancora in corso di accertamento l'operaio ha subito uno schiacciamento di gamba e bacino. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie. Gli altri colleghi della falegnameria presenti al momento dell'infortunio hanno subito dato l'allarme facendo intervenire i soccorsi. Sul posto vista la gravità della situazione si è portato in pochi minuti l'elisoccorso del suo M118 stabilizzato. Il ferito è stato caricato a bordo e trasportato all'ospedale di Mestre. Carabinieri e ispettori dello Spisa si occuperanno ora di accertare eventuali responsabilità.